Una visita nella storica sede di Via dei Concili, riaperta per gli esami dopo quasi tre anni di chiusura a causa di problemi strutturali. Il presidente della provincia Biancardi ha incontrato la dirigente scolastica del liceo Mancini, Paola Anna Gianfelice, e i docenti per portare il suo in bocca al lupo per la ripresa delle attività, assicurando che continuerà l'impegno della provincia per rendere la scuola sempre più sicura. Devo dire che sono emozionato, ho scelto il Mancini per visitare i ragazzi per questo esame, proprio perché, a parte il rapporto che c'è con la dirigente scolastica, la grande collaborazione che stiamo avendo per continuare non è soltanto l'apertura che abbiamo ottenuto del Mancini, ma adesso dobbiamo continuare perché, come sono arrivato, le prime richieste della dirigente è quello di non fermarmi. E quindi noi, insieme al Consiglio Provinciale e a tutti i consiglieri, noi speriamo di impegnare le ulteriori somme nel bilancio prossimo, ma contemporaneamente poi cercheremo anche di affidare alle imprese i lavori che dobbiamo ulteriormente fare. La Gian Felice si è invece soffermata su quelle che sono le problematiche della scuola nella ripartenza post-Covid. Fondamentalmente io ritengo che sarà un po' difficile trasformare le scuole nei triage ospedalieri, quindi la prevenzione andrebbe fatta prima nei presidi sanitari e quindi chiedere agli alunni e alle famiglie una certificazione, un tampone, una verifica che ci garantisca appunto la prevenzione del contagio. Poi all'interno delle scuole noi possiamo mantenere un ottimo standard igienico-sanitario, migliorare il concetto della distanza, cercare di tenere le mani pulite, gli ambienti puliti. Grazie.